La scienza non è un affare per soli addette ai lavori e la salute dell'ambiente in cui viviamo dipende dai nostri gesti quotidiani come aprire un rubinetto o fare la spesa al supermercato. Lo si capisce al Museo A come Ambiente di Corso Umbria a Torino, visitato ogni giorno da scolaresche, famiglie e semplici cittadini, e dove è stata in visita una delegazione della città etiope di Awassa, giunta a Torino nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale Awassa 100% Plastic, finanziato da un bando dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo. È molto interessante che l'abbiamo visto tutto in pratica, nel nostro paese lo vediamo solo sulla carta, adesso lo vediamo a livello pratico, così noi possiamo applicarlo e esportarlo al nostro paese. Il progetto di cui la città metropolitana di Torino è partner mira a rafforzare e a migliorare la gestione dei rifiuti urbani, soprattutto di quelli plastici e organici. La visita al Museo A come Ambiente è servita alla delegazione etiope per capire come i laboratori e le attività didattiche, dedicati in particolare ai bambini e ai ragazzi delle scuole, possono contribuire a sensibilizzare una comunità locale sulle tematiche ambientali e sull'impegno che ogni cittadino può mettere in campo quotidianamente per ridurre l'inquinamento, lo spreco di risorse e la diminuzione della biodiversità. Il Museo A come Ambiente è il primo di questo tipo in Europa, quindi è nato nel 2004, e ancora oggi in effetti siamo abbastanza una rarità. Quello che devo dire è che mi fa molto piacere che gli altri centri per la scienza europea, il museo fa parte della rete Excite, dei musei di scienza, si stanno finalmente accorgendo che esistiamo e che quindi stiamo iniziando un percorso di collaborazione molto intenso che porterà per esempio all'appuntamento annuale dei musei di scienza lubiana nel mese di giugno a uno scambio di buone prassi di quello che succede qua con gli altri musei d'Europa.